arriviamo fino all'angolo del calcio d'angolo ci prendiamo e vai alla fronte e ti vai a dire a questa pronti? di continuo, via vai Guido concentrati? tutti concentrati vai Nicola Enric ecco il nostro Amedeo terza seduta di allenamento mister Gabriele con la t-shirt gialla ha dato un break ai suoi ragazzi si stanno dissetando alla fontanina questo è il terzo giorno di raduno dei allievi da questo lato e giovanissimi da quest'altro con i nuovi innesti man mano mister Gabriele sta aumentando il ritmo il carico di lavoro sono stati il mister ha richiesto di approntare dei sacchetti di sabbia e la società puntualmente ha provveduto sicuramente sta preparando le prove di carico i gradoni i famosi gradoni che entro questa settimana saranno saranno utilizzati dai nostri ragazzi per salire e scendere con il sovraccarico del sacchetto di sabbia serve a robustire le gambe le spalle ad assumere una postura idonea ecco il nostro Nicola che è rientrato oggi dopo gli esami ecco Enrico ecco il nostro Lele vai Lele grande dai Amelie dietro di me grande dietro di me Andre ecco parte il nuovo non mi ricordo il nome Andrea ecco il nostro Matteo vai Matteo ecco ecco